Posti di lavoro, sviluppo sostenibile, crescita, competitività, qualità della vita. Questa è la politica di coesione attuata dai fondi europei. In Emilia Romagna, in questi anni, imprese, professionisti, centri e laboratori di ricerca, enti locali, grazie al sostegno dell'Unione Europea, hanno potuto realizzare i loro progetti, rendendo ancora più attrattivo questo territorio. Io Investo Qui è il filo conduttore del concorso che mostra l'impatto dei fondi europei in Emilia Romagna. Ai beneficiari di finanziamenti PORFESR 2014-2020 è stato chiesto di raccontare in uno spot video di 90 secondi la storia del loro progetto, facendosi testimoni di come queste risorse sono investite in concreto per la qualità della vita di tutti noi. Moltissimi gli spot video candidati al concorso, a testimonianza concreta delle opportunità di sviluppo e occupazioni create, contribuendo così alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di un'Emilia Romagna sempre più attrattiva. Ai vincitori va il merito di aver saputo raccontare in modo efficace il loro progetto, comunicando l'utilizzo dei fondi europei della Regione Emilia Romagna. A tutti i partecipanti va il ringraziamento per aver contribuito a raccogliere testimonianze di valore sulla capacità progettuale in questa regione. Io Investo Qui perché in questo territorio ci sono le nostre radici e abbiamo trovato l'ecosistema giusto per la nostra innovazione. Perché il tessuto imprenditoriale e le istituzioni non sono seconde a nessuno. Perché grazie alla Regione Emilia Romagna Energy Way è diventata una realtà concreta e credibile sul nostro territorio. Io Investo Qui perché qui in Emilia Romagna è facile mettere insieme progetti e competenze multidisciplinari. Io Investo Qui per creare competenze, unico vero motore di prosperità e futuro per il territorio. Perché l'azienda è sempre stata qui da oltre 50 anni e perché sul territorio emiliano romagnolo ci sono grandi competenze professionali. Perché mi occupo di irrigazione e di precisione. C'è già una rete, un substrato di servizi che ci consente di lavorare a livello avanzato. Perché crediamo nella nostra capacità di portare avanti quella artigianalità che sta scomparendo. Io Investo Qui perché qui si trovano tutte le competenze necessarie a sviluppare progetti complessi. C'è la capacità di lavorare insieme per migliorare la qualità della gente senza concentrarsi troppo sulla tecnologia che pure c'è. Perché in Emilia Romagna e a Mirandola c'è la capacità di trasformare la plastica in idee per la salute dei cittadini. Per mettere in rete e attrarre le migliori competenze nel campo del teatro e dello spettacolo nel nostro territorio. Questa è l'Europa in Emilia Romagna.